Nel 2021 3,6 milioni di europei hanno lavorato nei diversi settori legati alle foreste, dalla silvicoltura all'industria del legno. Secondo i dati Eurostat, mentre l'occupazione totale nell'Unione Europea è aumentata del 5,9% tra il 2011 e il 2021, l'occupazione nel settore forestale è diminuita dello 0,4%. Con oltre 159 milioni di ettari di foreste, nel 2021 l'UE aveva 3,2 milioni di persone che lavoravano in attività legate alla silvicoltura e all'industria del legno e altri 437 mila lavoratori autonomi in quei settori. L'attività che ha occupato maggiormente le persone è stata la fabbricazione di mobili, che coinvolge un totale di 1,1 milioni di occupati e 174 mila lavoratori autonomi. Segue la lavorazione di altri prodotti in legno e sughero con un milione di occupati e 153 mila lavoratori autonomi. Registrano il minor numero di occupati in questo comparto, la manifattura di carta, la silvicoltura e il disboscamento.